Così come mamma l'ha fatta, come recita un antico detto, nuda e ammiccante ha attraversato piazza Signorelli di fronte agli occhi increduli e potremmo anche dire compiaciuti dei passanti e degli avventuri di un bar. Siamo a Cortona, culla della cultura etrusca, meta di migliaia di turisti per un giorno alla ribalta della cronaca per un gesto decisamente singolare, del quale non conosciamo il motivo se non una goliardata tra giovani. Questa ragazza, che pare sia una turista di nazionalità argentina, attorno alle 3 del mattino, è stata protagonista di questa passerella hot nel piano centro cortonese. Poi è scomparsa dietro all'antico portone che si trova all'ingresso del mic, non prima di aver lanciato un ammiccante saluto a coloro che la stavano osservando. Un video, manco a dirlo, che ha fatto il giro del web portando a casa una valanga di clic e visualizzazioni. Insomma, pochi secondi bollenti a Cortona, non solo per le temperature africane di questo agosto.